Attività commerciali bloccate, case inagibili, aziende agricole in ginocchio, pescatori con le barche distrutte. La quantificazione dei danni provocati dalla terribile ondata di maltempo che ha devastato Livorno nella notte fra sabato e domenica provocando otto vittime è sempre in corso, ma una prima stima sommaria c'è. 180 milioni di euro che la Regione chiederà come ristora lo Stato, come ha dichiarato il Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi nel corso di una riunione con le categorie economiche, i sindacati e gli enti locali che si è svolta nella sede della provincia di Livorno. Abbiamo davvero la necessità che il Parlamento e il Governo rispondano in maniera significativa con un ristoro verso le attività imprenditoriali. Oggi le ascoltiamo e poi anche verso le famiglie che hanno avuto questi danni. Iniziamo a discutere, noi siamo persone che non chiedono se non hanno bisogno e non pietiscono se non pensano di avere diritto. Questa volta mi sembra che ci sono tutte e due le situazioni, con dignità come i Livornesi hanno fatto reagendo all'alluvione, le istituzioni dovranno farsi carico di questo. Durante l'incontro sono state illustrate le misure individuate dalla Giunta regionale per dare un aiuto in più alla città di Livorno. La concessione di garanzie, favorire il microcredito, prevedere il differimento e la rimodulazione degli aiuti rimborsabili. Poi abbiamo presentato le nostre due proposte, quelle che tipicamente mettiamo a disposizione come Regione, che sono la garanzia al credito fino a 600 mila euro e il microcredito fino a 25 mila euro. Particolarmente il microcredito può essere interessante per le piccolissime imprese, perché consente di avere subito questi interventi della Regione. Nei prossimi giorni definiremo ancora meglio questo e insieme alle associazioni racconteremo di che si tratta e così tutti saranno informati in modo puntuale.